Peccatuccio di gola anche per la vostra comtesse. Ambrosio mi ha convinta e lui sa bene che se voglio si cucinare come una chef patissiere. Così, mentre preparo questi tortini con cuore caldo e cioccolato fondento aromatizzati all'arancio e con un pizzico di peperoncino, vi racconto un film del 2000 di Lars Alström con una Juliette Binoche molto simile alla sottoscritta e un Johnny Depp che, bello dico, è identico al mio maggiordomo Ambrosio. Avete capito il titolo del film, vero? Bensur, bravi, stiamo parlando di cioccolato. Siamo nel 1959, in un paesino fittissimo nel nord della France, un paesale di bigotti che ha persin da conconte, le comte de Reinault, interpretato da un elegantissimo Alfred Molina. Vion e Anouk, madre e figlia, arrivano in un giorno trasportate dal vento del nord. Vion è una donna carismatica, non sotto l'esigenza di conformarsi e ha un'arte non comune. È una maîtressa cioccolatiera di primo ordine e capisce l'ingrediente adatto ad ogni personalità. Il peccato di Gola si mischia a peccati di lussuria, ma quanto è bella quella scena di sesso sulla barca di Rougio Nideppe? Anche Ira, vogliamo parlare della rabbia del violento cafone Serge, mon dieu, marito di Josephine, cleptomane che trova fiducia in se stessa solo con l'amicizia di Vion. Un po' decidiamo il nostro conte, per questo mi ricorda tanto mio povero marito che aspetta in vano il ritorno di sua moglie. Ma quella è felicemente singola a Venezia, e proprio io come posso darle torto. Solo che il conte, in fondo, non è che proprio voglia riaverla, visto che è innamorato della segretaria Caroline. È quell'innocente invidia di Anouk, che lascia appena intravedere verso gli altri bambini. Bambini che hanno radici, hanno una casa, madri che indossano scarpe scure. E già, perché Vion porta dei coltelli rossi, insieme hanno vissuto in giro per il mondo. E sono state pure a Pavia, la città del mio caro Ambrosio. Insomma, melange di peccati e di chocolat. Ce n'è per tutti i gusti, mes amici. Si sogna, si ride, si piange persino un po'. Intanto la ricetta dei tortini è quasi pronta. Il mio vento del nord mi dice che ve la scriverò molto presto, proprio qui, su Seven Blog. Visto che l'unico ad assaggiare questo capolavoro sarà Ambrosio. La Comtesse, l'avete capito, promuove il cioccolat e ve ne consiglia la visione durante una notte invernale. In compagnia, ovviamente. Bon appétit, mes chouchous.